Grazie a tutti. Il primo bilancio dopo l'approvazione del piano di equilibrio del 9 luglio, un bilancio che ancora una volta è un problema soprattutto degli interessi dei cittadini, che nonostante le politiche neoliberiste dei quattro governi che si sono succeduti, compreso le politiche d'Italia e il governo Venzi, non taglia i servizi essenziali, cerca di rafforzare la lotta alle passione e vicino ai cittadini, investe sui servizi essenziali, insomma si cerca di dare il massimo in un contesto dato, soprattutto con un bilancio di trasparenza e di correttezza che ci è stato certificato e sottolineato nella nostra correttezza, trasparenza e efficienza dalla Corte dei Conti con una nuova decisione del 9 luglio. Questo è un motivo di grande soddisfazione. Possiamo oggi dire che affinando la pubblica amministrazione secondo le direttive dell'Unione Europea, quando ci siamo inseriti si pagava circa 4 anni di distanza, una città sana, una città sottilvestire, una città piena di problemi, piena di contraddizioni, ma una città viva, una città piena di giovani e piena di turisti. E questo è un bilancio che guarda a una città che ha un futuro certo in un contesto dato difficile. Questo è il risultato che abbiamo raggiunto grazie al Consiglio Sommare di Napoli, grazie all'amministrazione, grazie soprattutto ai cittadini della nostra città, che certe volte magari non hanno compreso più il futuro delle due ragioni per le quali noi non riuscivamo a garantire tutti i servizi che avremmo voluto, e a loro dedicheremo e dedicherò tutto il tempo necessario che un essere umano può dedicare per l'amore che ha per questa città. Io mi rivolgo innanzitutto alla mia maggioranza storica, iniziale, leale e forte, anche se ne pute nontanto, ma nella gran difficoltà sì, di dare oggi una grande problematica di forza, di solidità e di amore per la nostra città. Poi vengo alla seconda parte, ovviamente per i miei interventi. Oggi verrà un momento difficile, perché c'è un'accelerazione forte di ambienti ben individuati, quindi non invisibili, magari invisibili nelle procedure, ma visibili nei comportamenti e nelle identità, che vogliono normalmente mettere le mani sulla città per riportare alla rifalta quel sistema di potere che il popolo democratico della nostra città ha cacciato fuori dal palazzo. Quindi io non posso che rivolgermi oggi, in un momento complicato della città, in un momento complicato anche del sindaco, di rivolgermi anche a chi ci ha accompagnato in questa avventura, con chi si è allontanato, e quando ci si allontana le ragioni non stanno solo da una parte, ma bisogna scandagliare il motivo dell'allontanamento, e non solo da loro perché oggi è anche il momento di identità delle forze democrate, con le quali ci si può dividere su tante cose, ma non sulla democrazia, sulla Costituzione e sulla lotta, non li chiamerò più poteri forti, perché siccome stamattina leggevo Renzi, che diceva che lui da oggi si mette contro i poteri forti, dopo che sta violando, volendo modificare uno dei cardini della democrazia del nostro Paese, che è l'articolo 18 del Stato dei lavoratori, che oggi lo chiamerò sistema criminale e poteri criminali. Quindi non posso che rivolgermi a chi, devo dire, mi ha fatto soffrire, probabilmente ci saranno state anche condotte nostre che non sono piaciute, però so essere persone democratiche e persone che amano la nostra città e che non hanno nulla a che vedere con questo sistema criminale. Allora non chiedo l'approvazione, ovviamente, del di là, non mi interessa, questo è un tema secondario, mi interessa che da oggi tutti possano avere la schiena ditta, l'occhio vigile e le mani non in tasca per difendere la nostra città. Mi rivolgo anche a altri compagni che stanno qua dentro, mi rivolgo a Selle, mi rivolgo a Selle che non fa parte di una maggioranza che governa il nostro Paese, che sta tentando, attraverso una legge, di violare gli equilibri costituzionali del nostro Paese. Mi riferisco all'articolo sul paese di un video sboccatato. So che Selle sta guardando con attenzione e con sensibilità, a volte questo momento è difficile, mi rivolgo anche a loro. All'opposizione chiedo di non far valere in questa fase, in questa giornata, aspio di identificazione e rivincite personale sul sindaco, ma di soffermarsi, come loro sanno fare, punto su punto sul bilancio, contrastarci sulla politica, sulle nostre decisioni, sui nostri errori, sui nostri sbagli, ma non cercando di utilizzare altri argomenti che attengono un po' alla seconda parte del mio intervento. Quindi io sono convinto, e sono certo di non sbagliarmi, che oggi questo Consiglio Comunale scriverà una pagina altra. Noi siamo diversi dagli altri, è vero. Noi non possiamo dire se siamo migliori o peggiori, ma siamo diversi. Napoli è diversa, è diversa nelle sofferenze, ma è diversa anche nella sua originalità e nella sua difficoltà. anche nel non cedere di fronte a chi oggi, da ogni parte, chiede che questo sia una cosa di panico, e per una passata da parte. Io ogni tanto devo anche provare a mettermi una maschera, a rialzarmi e a provare a far finta di me. Per me oggi non è facile parlare, non è facile mantenere sempre la potezza, la lucidità, la forza, il coraggio, perché quando una persona fa il proprio dovere fino in fondo e continua per anni a pagare, non sulla pelle di altri a cui può esprimere la solidarietà, ma sulla propria pelle, pesi e ingiustizie inaccettabili, non è facile rialzarsi, non è facile dire continua ad andare avanti, non è facile non farsi prendere dalla tentazione di ritirarsi a una vita privata, avvicinarsi ai propri affetti e ai propri amici che per anni si sono trascurati. Però questa scelta io l'ho fatta, l'ho fatta nel 1995, l'ho fatta quando il primo dicembre del 1995, il giudice da magistrato, che ho detto alla Costituzione della Repubblica italiana, e già dopo pochi mesi, dall'inizio del mio lavoro, capì quanto mio padre mi avesse ingannato. mio padre era magistrato, mio padre mi aveva fatto inudere che la magistratura potesse essere qualcosa di superiormente etico rispetto all'altro, invece nel fare il magistrato mi sono reso conto con i ganni che la corruzione, la corruzione, il sistema criminale non appartiene solo ai delinquenti di strada, non appartiene solo a pezzi della politica, ma la situazione purtroppo è molto più grave, molto più seria. Questo è uno di oggi. molti amici, molte amiche che hanno seguito negli anni la mia vicenda, che hanno seguito le cose che ho detto e che ho scritto, sanno che io sono un uripe. Sono stato un magistrato autonomo e differente, non ho pagato per i rubri che non ho connesso, i rubri si fanno un uripe, ma ovviamente qualche errore avevano fatto in magistratura, ma non ho mai fatto né i rubri gravi, né il dono, né il corruzione criminale. Ho pagato perché non sono fatto loro. Ho pagato perché non mi sono girato dall'altra parte. Ho pagato perché quando non arrivavano i proietti mi trasmettevo alla Ticos, quando mi fermavano in mezzo alla strada per minacciarmi non mi piegavo. Non mi sono piegato nemmeno quando mi hanno detto battere dalla Calabria che offriamo il trasferimento da Napoli. Quando mi hanno detto che era il Ministero della Giustizia a fare il vice capo del DAPO a 15 mila euro al mese, dissi pubblicamente a Reggio Calabria proprio prima di essere trasferito su buonontà del ministro Mastella che oggi l'ha investigato, diviene investigatore, dissi che dalla Calabria mi dovrebbero per cacciarmi, ma ma salve l'aspetto. Ebbene, la libertà non ha prezzo, la libertà non si compra, l'autonomia e l'indipendenza sono un elemento di forza ma molto anche in alcuni momenti di debolezza. Di forza perché non di rimane al punto a nessuno se non alla propria coscienza, di debolezza perché molto spesso rimani non solo, perché la solitudine è uno stato danico non negativo, ma rimani solo. Allora io chiedo ovviamente alle persone per bene di stare attenti, non fermarsi alle vulgate superficiali. Le sentenze devono essere rispettate, le sentenze vengono rispettate, vengono anche criticate, le sentenze dispiegano effetti giudici, ma le sentenze vanno anche a raccontare. Quindi io nei prossimi giorni ovviamente farò anche questo, vi prenderò a raccontare queste vicende, una sentenza che giudicamente fa acqua da tutte le parti. Una sentenza in crisi di violazioni di legge e di legittimità. Un procedimento penale che iniziò a chiedere dopo, magistrato ben noto alla stampa nazionale corvolto nell'indaggio sul G8, poi affatteggiato. Una sentenza che va a ripigliare a che non si comprende perché sia stato il Tribunale di Roma, visto che sui magistrati indagava, secondo il codice di procedura penale, la comunità genziale di Salerno, come di Pisano, dice un principio del codice di procedura penale, l'articolo 11, sui magistrati di Catanzaro indagava Salerno. E guarda caso i magistrati di Salerno stavano indagando. E guarda caso il corso a Salerno è un processo in cui io sono parte civile e dove i magistrati, politici ed altri che mi sottrassero l'inchiesta sono aiutati per corruzione in attività iniziale, tutti i processi sono fatti a Salerno, io subito 90 procedimenti penali, poi sono stato assolto e archivato e dove i miei accusatori sono sotto processo. Uno solo se ne ha fatto l'interno. Ed è questo qua. Non si sa perché a lui. Perché si fa questo processo? Però questa non è la sede, un consiglio comunale. Addirittura avendo contattato sulla vicenda a Mastretto quando Salerno aveva già archivato. Bene, allora siccome la sentenza va rispettata nel senso che produce i sui effetti di giudici ma non è tutto dove gli altri. Qualcuno mi chiede se io mi dovrei dimettere perché una sentenza di questo tipo mi ha condannato. Bene, io la dico assumendomi ovviamente quando tirando la giunta in questa mia di persone ma nel mio piccolo personale io credo che guardando siano specchio e provando vergogna quei giudici di quei tribunali si dovrebbero dimettare. Sono certo io che ho fatto sottolineare. Io sono un'unità dell'estituzione non mi farò trascinare pur essendo difficile a 47 anni dopo aver fatto il magistrato e dopo essere tentato ad avere non più fiducia nello Stato e nelle istituzioni dei loro complessi. Io non vi faccio fascinare da questo perché so perfettamente che all'interno delle istituzioni ci sono donne e uomini che sapranno riparare a violazioni di legge a reati però non c'è dubbio che questa sottolineatura oggi la dobbiamo fare io la farò sempre e la farò ancora di più ho stato profondamente corrupto pensate solo un dato non la voglio far lunga che chi mi strappò chi contribui a strapparmi la prova di pubblico ministero in un processo disciplinare farsa di cui non si assopria nella Repubblica italiana che durò quattro mesi col Consiglio Superiore della Magistratura e l'ha preseduto da un signore che si chiama Nicola Mancini che oggi è riputato nel processo uno dei processi più gravi della storia della Repubblica italiana nella trattativa Stato-mafia in cui anche il Presidente della Repubblica contro la sua volontà dovrà per volontà di un tribunale andare a testimonire è un paese ridurò stretto la mano a carabinieri coraggiosi che mi hanno fatto piangere per il loro coraggio in cui ho stretto la mano anche durante questo periodo in cui da sindaco ho dovuto stringere alcune mani e ragioni istituzionali di cui mi vergognavo di essere cittadini italiani il nostro paese è intriso di migrazione intriso di corruzione quindi nei prossimi mesi io credo che noi dobbiamo alzare il livello di scontro contro la comunicatura di regime dobbiamo da Napoli dalla storia personale di ognuno di noi far capire che esistono altre donne e altri uomini all'interno delle istituzioni ma che il sistema è profondamente marcio profondamente corrotto e anche intriso di deviazioni pericolose voglio ricordare anche in quest'aula progettando la presenza di tanti giornalisti una mia considerazione che ho fatto negli anni di esperienza magistratura non vi pensiate che avendo la mafia abbandonato la strategia dell'attenzione criminale come volere 93-94 92-93-94 sia stata sconfitta la magistratura e le forze porti hanno fatto grandi passi in avanti ottenuti grandi risultati ma la mafia è molto intelligente dal punto di vista politico e dal punto di vista criminale ha deciso di infiltrarsi ha deciso di non concludere più con la politica e con il perso di Stato ma di venire tutti a prendere le forme delle istituzioni a procedere dalla strategia criminale esterna alla stagione della legalità formale oggi le più grandi ingiustizie passano attraverso il rispetto della legalità formale ecco perché la battaglia è molto complicata ecco perché uno deve scegliere se la rivoluzione parla solo all'esterno delle istituzioni o anche all'interno noi abbiamo fatto la scelta di provare a fare la rivoluzione all'interno delle istituzioni vincendo una campagna elettorale complicata difficile e oggi governando qualcuno dice il sindaco ha isolato la città dipende da che punto di vista la verità sì stiamo isolati da alcuni motivi sì siamo isolati da un certo sistema che dice che io mi dovrei far aiutare mi dovrei sedere mi dovrei cedere mi dovrei fare i compromessi orari da quelli siamo isolati ma io non credo siamo isolati da tanta anche gente per bene quindi da questo punto di vista noi non avvertiamo il senso dell'isolamento avvertiamo semmai la necessità di rafforzare il senso vero di questa esperienza la rivoluzione però non è solamente un tono istituzionale il cambiamento non è solo stretta di male istituzionale il cambiamento non è solo quello per cercare di portare avanti la nostra città e farlo uscire da un momento di prediscesso essere costretti in un recinto complicato non rompere equilibri istituzionali per evitare della città quindi è vero che noi anzi tutt'altro di isolare siamo dovuti andare a Roma abbiamo dovuto cercare un dialogo abbiamo dovuto cercare di raggiungere un risultato tenendo dentro il governo il Parlamento la regione però adesso negli ultimi tempi mi sembra che c'è un'accelerazione forte contro l'anno c'è un'accelerazione forte contro questa amministrazione e questa esperienza però come mi ha scritto un mio amico stamattina la rivoluzione non è una città di l'anno se qualcuno pensa che questa esperienza sia fatta solamente del giacqua che era fatta stretta di male e non torna istituzionale non è così e chi ci vuole cacciare ha uno strumento democratico che potremmo fare è delizio invece da quando ci siamo insediati fate un poco lo scuso di tutti i tentativi che ci sono stati e prima i tentativi con la conto dei conti e poi il piano di equilibrio e poi il rendiconto e poi qua e poi là io credo che l'unica strada per sconfiggere questa esperienza amministrativa è quella di sconfiggere queste persone sindaco che non va eventualmente non va di cambiarsi nel momento elettorale allora noi siamo convinti di aver spezzato un sistema politico siamo convinti che ci sia chi voglia far ritornare quella stagione siamo convinti che ci sono persone che vogliono far cadere in un modo o nell'altro questa amministrazione io sono convinto che invece oggi noi possiamo essere più miti che mai spiace che questo debba venire un'altra volta anche su sofferenze personali che io sto vivendo in questi giorni in queste ore ci ho anche pensato a lungo ho anche riflettuto se valesse la pena continuare ebbene ancora una volta non solo avvetto intatta la mia forza ma se è possibile avvetto addirittura un'energia ulteriore rispetto a quella che avevo e che avvetto ancora di più un senso di responsabilità e siccome quando si alza il tiro e quando non ci si piega l'artiglieria pesante che viene messa in campo dall'altra parte diventa sempre più pericolosa noi non abbiamo artiglieria pesante ma sappiamo che esiste la resistenza della guerra e io sono assolutamente fiducioso che questa esperienza arriverà sino alla fine che i bilanci si faranno alla fine che le persone una per una nella nostra città e io dire del nostro paese perché quello che sta accadendo non è una questione solo napoletana ma ben altro dei nostri confini urbani la porteremo a compimento la porteremo fino alla fine con un rinnovato entusiasmo io quello che chiedo diciamo a chi ha la forza di andare avanti chi ama la giustizia e non la legalità formale chi vuole dare un futuro diverso alla nostra città ai nostri figli ai nostri non cittadini di mettercela tutta in questo momento mettercela tutta perché vedremo parecchi giorni difficili ci saranno momenti complicati ma il quadro come dire quando appare così confuso vuol dire che è molto chiaro è molto chiaro e si comprende anche chi si sta muovendo per mettere le mani sulla nostra città quindi su questo noi siamo pronti siamo persone libere siamo persone autonome io mi sento particolarmente motivato non ci manca il coraggio non ci manca la determinazione quello che dobbiamo fare da oggi è far capire ai nostri concittadini qual è la posta di giorno al di là delle visioni politiche al di là anche degli stimoli che si possono fare ma oggi la posta di giorno è troppo alta io non credo che si possa cancellare un'esperienza democratica in cui un sindaco è stato eletto dai suoi concittadini che ben conoscevano anche le vicende giudiziarie di quel sindaco a colpi di formalismi giudici di norme tra l'altro giorno vedevo casualmente questa legge che adesso vorrebbero automaticamente applicare che vorrebbe dare un periodo di sospensione forzata viene fatta dalla Sede il ministro della giustizia guarda caso difensore di cui io la mia controparte nel processo di Roma guarda caso questa legge viene fatta proprio durante il processo di Roma che cosa le racconteremo nei prossimi giorni io comunque vado a fare il sindaco fino alla fine della mattina a metà del 2016 poi deciderò se avrò la forza se avremo la forza se avremo l'entusiasmo io altrimenti ce l'ho di continuare ancora avanti ma fino al 2016 ci arriveremo e ci arriveremo con la forza il coraggio l'autonomia la libertà l'indipendenza e soprattutto non ci faremo piegare da questa melassa pubida che mette insieme pezzi di Stato che non hanno nemmeno il coraggio di venirti davanti e dire io ti voglio abbattere cioè cercano sempre dietro le quinte di fregarti attraverso strumenti giudici è una storia che ormai mi parla a conoscere dal 97-98 alla fine ho trovato più coraggio in alcuni criminali che quando andavi vicino alla gabbia ti dicevano chiaramente tu eri lo Stato e loro erano i criminali perché eri un venito perché eri un avversario te lo diceva in pace qua ci sono persone che si nascondono attraverso le vesti di Stato ma sono più criminali di quei criminali che stanno dicendo alle altre quindi da questo punto di vista da Napoli si scriverà una pagina diversa nuova e io l'unico auspicio da sindaco della mia città mi auguro di potere che a fianco a noi la maggior parte dei consigli comunali e poi la maggior parte dei cittadini onesti che la possono pensare anche interessamente dal loro sindaco però sanno che hanno un sindaco dalle mani pulite per bene onesto che nei prossimi mesi si batterà solo esclusivamente per la propria città senza indireggiare nemmeno di un centimetro e addeponendo l'interesse della città anche alla mia difesa personale nei processi grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti